Cari amici che siete all'ascolto, un caro saluto da Fabrizio Gagnor, che vi parla, dal Kufrad, insieme con coloro che sono presenti con me questa sera. Cari amici, questa sera ritorniamo su una tematica da guardare con attenzione da parte di tutti. Questa sera si parla delle personalità dipendenti. Nella nostra rubrica sui problemi del disagio ci occupiamo di tanti aspetti, in particolare il disagio correlato alla dipendenza da sostanze o dai comportamenti. Ebbene, oggi ci soffermiamo nuovamente su questo aspetto. Una personalità dipendente. Cercheremo di dire qualcosa sulle caratteristiche, sulle origini, in particolare su questo. Da dove viene una personalità dipendente? Perché? E quali sono le implicazioni nella relazione di aiuto in quest'ambito? Ci facciamo aiutare in questo dialogo da due psicologi che sono presenti con me in studio. Ve li presento. Abbiamo con noi la psicologa, la dottoressa Emanuela Albera e la psicologo dottore Andrea Cauda. Facciamo così, come sempre. Io vi presento brevemente alcuni punti di questa tematica. che trago da uno studio pubblicato su benessere.com. Trovate questo studio anche pubblicato sul nostro sito kufrad.it. Ma anche se usate Facebook, lo trovate su Facebook, alla pagina kufrad news su alcol e droghe. E così è anche comodo perché se voi mettete mi piace, poi dopo di giorno in giorno ritroverete sulla vostra home page gli aggiornamenti sulle tematiche della prevenzione e della cura, l'accompagnamento delle persone con problemi di dipendenze patologiche. Ma colgo l'occasione per ricordarvi che poi potete riascoltare la presente trasmissione, ma anche le altre trasmissioni di Radio Mater andando direttamente sul sito di Radio Mater, Radio Mater.com, lo sapete bene, dove in alto vedete trasmissioni, allora cliccando lì sopra trovate tutti i vari orari con le varie possibilità. Per le trasmissioni del kufrad, anche quelle delle trasmissioni precedenti, quindi quelle già passate, le trovate se volete utilizzare YouTube. Sudate YouTube, andate sulla pagina Kufrad Centro di Cura, a quel canale potete iscrivervi e lì trovate da domani questa trasmissione, ma poi trovate anche le precedenti e tante altre testimonianze da parte di persone che sono disponibili a raccontare le proprie difficoltà, le proprie esperienze e che cosa è successo, come sono stati aiutati, chi li ha accompagnati. È molto utile, sapete, se volete aiutare altri, osservare e guardare queste testimonianze, perché di lì si capisce molto di come è bene fare e anche di come bisogna stare attenti a non fare errori. Entriamo nel merito della trasmissione di questa sera, della tematica personalità dipendenti. Cosa ci fa venire in mente questa domanda? Uno che è dipendente da qualcun altro, dipendenza affettiva, no? Si dice così, cari ascoltatori, vi sarà capitato, sicuro, sicuro vi è capitato, di vedere delle coppie, perché poi si pensa subito alla dipendenza affettiva, si parla di coppie, sovente, e uno dice, ma quei due come fanno a stare insieme, no? Non vi è capitato, vedete, delle coppie così strane, dice, come hanno fatto quei due a mettersi insieme? Di questo abbiamo già parlato in passato, osservando che molte coppie si formano in funzione di qual è il bisogno di uno e dell'altro. C'è una personalità fragile che cerca qualcuno a cui aggrapparsi e chi va a cercare? E guardate, cari amici, è come un foglio che è fatto di due pagine, una da una parte e una dall'altra. Chi è la controparte? È una persona che apparentemente è uno forte, è uno che lascia lunga, è uno che ha le idee pronte, è deciso su tutto, in realtà è pieno di problemi e per esistere ha bisogno di qualche persona che gli giri intorno e che abbia una dipendenza nei suoi confronti. Quelle coppie funzionano? Eh, cari amici, dipende, perché per un primo tempo i due bisogni contrapposti come le due pagine di uno stesso foglio fanno un foglio, e quindi per un po' di tempo vanno avanti, poi la coppia scoppia. Quando? Quando uno dei due comincia a guarire. E qui salta fuori il problema, i nostri psicologi ci diranno delle cose questa sera a questo riguardo, perché trattando anche la terapia familiare si sono accorti tante volte che nelle famiglie, quando c'è un elemento della famiglia, un componente che è l'elemento debole, l'anello debole della catena, allora tutti si danno un grande affare perché vogliono salvargli la vita e diventa il motivo unificante degli altri, perché altrimenti non avrebbero nulla da dirsi gli uni con gli altri. E quindi tutti uniti perché vogliamo, ma se quello mai guarisce che facciamo? Pensate che cosa terribile, cari amici, non abbiamo più motivo neanche della nostra quotidianità. La dottoressa Albera che si occupa dell'accoglienza che in modo particolare accoglie le famiglie, e il dottor Cauda che segue le famiglie dei pazienti che è in cura, ci parleranno di queste dinamiche e bisogna accompagnare le persone a regalare le ali a chi le ha perse, ma perché poi possa volare da solo, quello è l'amore più grande, no? L'amore più grande, dare le ali a chi vuoi bene perché poi sia libero di volare. Mmm, ma è difficile amare così, eh? Uh, com'è difficile! Allora io vi dico qualche cosa, cari amici, abbiamo soltanto un po' di minuti per la presentazione che io vi faccio, perciò vi dico poche cose. Poi voglio lasciare molto spazio ai nostri ospiti, ma soprattutto ai vostri interventi. Alessandro dalla regia ha già annunciato. Preparatevi a fare le vostre considerazioni, le vostre domande. Facciamola insieme questa trasmissione, non solo noi che siamo qui, ma tutti, perché tutti hanno delle cose importanti da mettere dentro la trasmissione. Le vostre esperienze, se domande ci sono da fare ai nostri ospiti presenti in studio, delle riflessioni. E vedete come diventa importante, diventa proprio interattiva, diventa dinamica questa trasmissione. Allora preparatevi a scrivere i vostri messaggi, è già stato annunciato, io lo ripeto, 331-791-4523. E lo stesso numero che ha dato Alessandro, ma solo l'ha formulato diversamente, perché sul cellulare viene scritto così. Allora, 331-791-4523. E le vostre email scrivete a diretta-radiomater.org. E poi per le vostre telefonate in diretta 031-64-60-00. Ancora alcune cose dopo quello che già vi ho annunciato. La personalità dipendente. Poi, se vogliamo dirlo in modo formale, diciamo il disturbo dipendente di personalità. Che cos'è una situazione che è pervasiva di tutta la persona, ma una necessità eccessiva di essere accuditi. Attenzione, cari amici, io vi ho già presentato le due pagine del foglio. Noi questa sera parliamo di una, cioè quella persona debole che cerca l'aggancio, cerca l'appoggio. E andiamo a cercare di capire quali sono le cause. Un'altra volta, magari, tratteremo l'altra parte, l'altra pagina. Perché di quell'altro che sembra forte. Ma guardate che solo quelli che ne capiscono un po' di queste cose si accorgono che quello che sembra è così forte, che la sa lunga, che sa tutto in realtà, è pieno di problemi e ha una dipendenza. Anche egli, perché sta cercando qualcuno che li ronzi intorno. Perché altrimenti si sente, si sente perso. E cosa faccio io nel mondo? No, quello esiste tanto in quanto ha qualcuno che deve assolutamente aiutare. Sapete qual è la trappola? Che alcune persone che sono sofferenti di questo problema, uno pensa, oh ma che persona stupenda, oh che persona, oh che persona umile, oh che persona servizievole. Qual è la trappola? E che magari invece è una persona sana, equilibrata, veramente umile, veramente servizievole. Il limite è sottile, ci sono degli elementi, ma sono più cose che dobbiamo dire una parola un po' strana, gli elementi più di carattere clinico, che ci aiutano a capire la differenza. Possiamo accorgersene, ma soltanto chi fa questo lavoro in realtà, perché lo vedi dagli atteggiamenti, dalle reazioni, dalla mimica, dal suo volto, lo vedi dal suo modo di consumarsi, perché tutti ci consumiamo nella vita, ma c'è quello che si dona veramente e dal suo volto traspare sempre luce, energia bella, no? Invece c'è chi si consuma male, e allora lo vedi, lo vedi che quella persona è sforzato, lo fa non perché è uno che è libero e che si dona veramente, lo fa perché in realtà ha dei mali. Ecco, magari facciamo così cari amici, io siccome il tempo è andato un po' avanti, lascio subito la parola ai nostri ospiti, entriamo subito nel merito, ci fanno degli esempi, ascoltiamoli. Cominciamo con la psicologa dottoressa Albera. Buonasera a tutte le persone che ci ascoltano in questo momento. È un argomento, come diceva Fabrizio, assolutamente comune, che ci riguarda forse più di quello che pensiamo proprio nella quotidianità, a partire da, come diceva Fabrizio, appunto i legami di coppia, fino ad arrivare a un rapporto genitore-bambino, un rapporto di lavoro, è una situazione che ci riguarda appunto proprio un po' tutti, nelle diverse fasi della nostra vita. Allora, normalmente partiamo proprio dall'inizio, quando si crea una personalità di tipo dipendente, la prima cosa che ci viene in mente da dire è quella che è una persona assolutamente in difficoltà, che ha sempre bisogno di avere qualcuno accanto, perché altrimenti si sente troppo vuoto, troppo perso, e quindi ha bisogno di sentirsi indispensabile per qualcuno, da una parte, e dall'altra parte invece non si sente in grado di affrontare da solo la quotidianità. Dicevamo prima che ci sono due modalità, due facce del foglio, la prima appunto è quella della personalità in cui emerge l'aspetto più ossessivo-aggressivo e poi c'è l'altra parte invece di comportamento in cui la persona assume sempre un atteggiamento remissivo, che sfiora quasi la depressione. In altri casi si presentano entrambi i comportamenti in modo a volte anche intermittente. Allora, vorrei provare ad addentrarmi un po' in che cosa succede a quelle persone che hanno sempre così bisogno di accudire qualcuno. In realtà, quello che vediamo in base alla nostra esperienza lavorativa è che queste persone hanno bisogno di accudire qualcuno proprio perché hanno un bisogno enorme di essere in primo luogo, scusate loro, al centro dell'attenzione. Perché altrimenti non si sentono indispensabili per nessuno e si sentono smarriti. Quindi tendono ad accondiscendere i desideri dell'altra persona, fanno tutto affinché l'altra persona sia contenta e soddisfatta. Sono anche molto abili e molto capaci nel cogliere in modo precoce i desideri dell'altra persona. Perché questo avviene? In primo luogo perché temono che in questo modo la persona altrimenti potrebbe allontanarsi da loro. Quindi mi spiego meglio. Allora, se io faccio di tutto per una persona, sono indispensabile alla sua vita, anticipo i suoi bisogni, i suoi desideri, le sue paure, lo coccolo in tutti i modi, che sia il partner, che sia il figlio, che sia accondiscendo in ogni modo alle esigenze del datore di lavoro. In questo modo l'altra persona non può fare a meno di me. Quindi io sono qualcuno perché esisto in funzione dell'altra persona. In realtà, però, queste persone non è che non abbiano dei propri desideri, dei propri scopi, solo che non riescono a mettere in atto un modo per raggiungerli. Per quale motivo? Perché innanzitutto si adattano sempre ai desideri dell'altra persona per un motivo fondamentale. Perché hanno paura che esprimendo i propri bisogni che possono essere incompatibili con quelli dell'altro, automaticamente la relazione possa in qualche modo vacillare e questo che cosa rischierebbe? Rischierebbe un abbandono. E non è sostenibile questo. Allora a quel punto, nonostante ci sia un vissuto di frustrazione, anche di rabbia in alcuni casi, anche di angoscia, che cosa faccio? Mi adeguo ai desideri dell'altra persona. Così almeno ho la certezza, ho la sicurezza che non sarò mai solo. Perché una persona non mi può lasciare se io faccio tutto per lei. Non è possibile. Chiaramente ci rendiamo conto, ascoltatori, che è un meccanismo assolutamente malato. È un po' un circolo vizioso. Noi diciamo in termini estremamente concreti il cane che si morde la coda, perché diventa proprio un modo malato di vivere qualunque tipo di relazione. Le cause possono ovviamente essere molte. Molti studi, ovviamente, ben sapete, sono intervenuti in merito. Sicuramente l'aspetto psicodinamico tende a considerare che la relazione madre-bambino, la relazione genitoriale, abbia innescato delle rappresentazioni del sé del bambino come persona inefficace e vulnerabile. Il bambino introietta queste rappresentazioni, questi meccanismi che fanno parte di una relazione con l'adulto ovviamente intermittente. Per intermittente intendo di un accudimento che un po' c'è, un po' non c'è. e questo che cosa fa in un bambino? Niente altro che destabilizzarlo. Un bambino quando è piccolo capisce e non capisce che cosa sta succedendo e quindi che cosa fa? Trova tutte le strategie per aggrapparsi a questa persona che in alcuni modi diventa quindi sfuggente con il rischio di diventare in fase adulta una persona con un disturbo di personalità dipendente. Certamente si può risolvere questo problema. Assolutamente si può risolvere. Vari sono i tentativi. Io provo a spiegare quello che all'interno della struttura proviamo a fare noi. Allora innanzitutto noi crediamo che la prima cosa sia quella di restituire alla persona la propria vita con una qualità ovviamente migliore. Come possiamo fare in questo modo? Quando ci troviamo di fronte a persone che hanno un problema di personalità dipendente dovuta magari a dei traumi infantili che queste persone hanno subito mi riferisco ad esempio alla perdita di un genitore che può avvenire in età precoce nella prima adolescenza in tarda adolescenza fino ad arrivare all'età adulta. Quando manca una persona in famiglia all'età di un anno il bambino vive questa cosa in modo reversibile non è in grado di capire che questa persona non torna più non ce la fa ma perché non ha gli strumenti. La persona che rimane dovrebbe riuscire con tutte le difficoltà che possiamo soltanto capire coccolare accogliere le paure le ansie il dolore di questo bambino che in qualche modo emerge magari con le difficoltà all'interno dell'ambiente familiare quando cresce dopo i 5 o 6 anni è assolutamente il bambino si rende conto che è una condizione irreversibile e quindi a maggior ragione ha bisogno di esprimere di urlare tra virgolette in qualche modo il proprio dolore e lo può fare soltanto se accudito se le cose sono chiare ovviamente bisogna mettersi anche nella parte del genitore in questo caso come sto spiegando il lutto a livello familiare che rimane che dovrà sopperire a una certa determinate necessità quindi a volte diventa difficile proprio stare accanto nel modo giusto ai propri figli e quindi si innescano questi meccanismi questo tipo di relazione malate che scatuiscono poi nell'adulto da grande dei meccanismi di dipendenza importanti per tornare al discorso che facevo prima come possiamo aiutare queste persone noi concretamente è innanzitutto non creare una relazione con il paziente di tipo patologico perché già il paziente tende ad accondiscendere sempre le richieste di tutti figuriamoci se di fronte a un terapeuta non risponde di sì a ogni sua richiesta quindi bisogna innanzitutto che il terapeuta abbia bene le idee chiare e che esprima al paziente su che cosa intende lavorare in primis sull'autonomia dei desideri del paziente senza però andare andando a promuovere l'autonomia del paziente ma ricordandosi di non rompere le relazioni a cui lui è legato perché sarebbe un ennesimo abbandono la relazione si trasforma ma non viene interrotta oltre a questo dobbiamo lavorare sul riempimento del vuoto sulla gestione del vuoto dell'ansia dei meccanismi depressivi sia quello che facciamo noi qui in struttura sia tramite gli strumenti terapeutici che utilizziamo dai colloqui e le terapie di gruppo a eventualmente terapie farmacologiche nel caso in cui siano necessarie fino ad arrivare all'autonomia graduale ma consapevole del paziente che è la cosa che noi ci auguriamo sempre il nostro ospite dopo ci spiegherà come questo attraverso un percorso di vita estremamente travagliato nel suo caso sta proprio sta cercando di realizzare vi ringrazio e aspettiamo vostre domande grazie grazie dottoressa albera ascoltiamo lo psicologo dottor andrea cauda buonasera anche da parte mia tutti gli ascoltatori mi ricollego a quanto detto dalla mia collega da dottoressa albera riprendendo in particolar modo il tema della libertà è questo il focus su cui ci si deve concentrare su cui anche ci si deve porre delle domande quanto effettivamente siamo liberi quanto siamo liberi dalle relazioni seppur positive che possiamo avere quanto siamo in autonomia e quanto crediamo di avere potere su noi stessi sulla nostra vita spesso si incontrano persone magari anche vostri amici vostri parenti se non addirittura voi stessi nel corso della vostra vita che hanno instaurato tutta una serie di relazioni importanti una dietro l'altra ecco bisogna cominciare a chiedersi se questo è davvero funzionale al proprio benessere spesso si vedono anche qui all'interno del nostro centro pazienti che hanno avuto una vita quasi frenetica da un punto di vista affettivo una relazione dietro l'altra sia da un punto di vista affettivo amoroso ma anche da un punto di vista amicale perché questo? perché si cercava poi di colmare delle mancanze di colmare il senso di vuoto che è tipico di queste personalità e allora non c'era mai spazio per star da soli non c'era mai un momento per riflettere su se stessi per stare con se stessi per capire quali fossero davvero i propri bisogni ecco allora lì bisogna cominciare a chiedersi quanto serve tutto ciò e quali sono i nostri reali bisogni iniziare una storia affettiva per poi concluderla magari anche malamente per poi cominciare subito un'altra e poi un'altra ancora non è funzionale perché non c'è modo di capire e non c'è modo di scegliere ci si attacca in clinica anche usiamo proprio questo termine ci si attacca alle persone perché si pensa di averne un disperato bisogno di non essere capaci a star da soli di sentirsi smarriti vuoti inutili addirittura di aver bisogno di rassicurazioni continue di supporto continuo da parte delle persone che noi riteniamo care spesso purtroppo e questo noi lo vediamo anche abbastanza quotidianamente tutto ciò finisce in maniera peggiore di quanto poteva essere cominciata perché queste relazioni fanno venire fanno emergere parti totalmente disfunzionali sia in noi stessi che nella persona che si prende cura tra virgolette da parte di noi accogliamo Maria da Brescia e poi proseguiamo con la spiegazione da parte del dottor Cauda ascoltiamo Maria pronto buonasera grazie a tutti e tre per aver trattato questo tipo di patologia io penso di avere una personalità dipendente anche se ho raggiunto una certa età due mesi fa è mancata mia madre e con lei avevo un rapporto di simbiosi inizialmente sembrava che le cose andassero bene per il primo mese da un mese a questa parte io ho cominciato ad accusare dei sintomi oltre che sintomi depressivi dei sintomi dei malesseri dei propri malesseri fisici certo solo che non so come risolvere la situazione perché si sta aggravando volevo così cortesemente un parere grazie buona serata grazie Maria ascolti per radio le risponde il dottor Cauda mentre prosegue il suo discorso sì buonasera la ringrazio innanzitutto dell'intervento una premessa lei ha subito un lutto molto importante e tutta l'elaborazione del lutto richiede del tempo quindi non bisogna né stupirsi né spaventarsi se ci saranno dei momenti in cui si sente triste distrutta arrabbiata delusa perché fanno proprio parte delle cosiddette fasi del lutto di elaborazione del lutto la perdita di una persona cara è qualcosa di enormemente traumatico e il tempo fa già è già d'aiuto per superare questo questo momento è chiaro che se alla lunga certi sintomi persistono e si nota che forse da soli non ce la si fa tanto ma si ha bisogno forse anche solo di un piccolo sostegno un piccolo aiuto allora l'invito è chiaramente quello di rivolgersi a un professionista a un collega psicologo psicoterapeuta che possa aiutarla in questo percorso di elaborazione mi ricollego anche a quanto detto dalla signora per quanto sia importante come già anche ci ha spiegato la dottore Salbra il rapporto con i propri genitori l'attaccamento che si sviluppa fin da bambini è determinante nel svilupparsi della dinamica della personalità dipendente i bambini gli adulti che poi presentano questo tipo di personalità sono stati sempre educati che il mondo al di fuori fosse pericoloso che l'essere liberi e autonomi comportasse enormi rischi e questo come può farci diventare impauriti sicuramente verso il mondo esterno e alla ricerca continua di persone che si possono prendere cura di noi e che ci possano anche tra virgolette salvare o aiutare a venire fuori da tutto questo pericolo proseguendo nella spiegazione di questo tipo di personalità vari studi sono stati anche fatti essendo noi un centro che si occupa di tossicodipendenze e di alcolismo cronico se esistesse una correlazione tra la personalità dipendente e la tossicodipendenza stessa ci sono parelli contrastanti nel senso che non è emersa una vera e propria correlazione tra queste due dinamiche ma sicuramente le sostanze l'alcol hanno anche la funzione di colmare questi sensi di vuoto che si presentano intorno di queste personalità di queste persone che soffrono di questa patologia o di questo disturbo se vogliamo parlare di disturbo di personalità e quindi molto spesso la dipendenza affettiva viene spostata su una dipendenza da sostanze o da alcol e questo perché da soli non si riesce ad affrontare il mondo e quindi mancanza di una persona significativa che si possa prendere cura di noi stessi purtroppo si finisce con l'abusare di quelle che oggi sono le droghe più comunemente usate grazie dottor Cauda allora proprio proseguendo da quello che ci stava dicendo il dottor Cauda ascoltiamo Mauro Mauro ci porta la propria testimonianza intanto vedo che è già arrivato una domanda e buonasera sono Lucia ci chiede quanto segue si può trasformare un problema di dipendenza in una risorsa cioè rendere la persona dipendente qualcosa di buono grazie per la domanda Lucia ascoltiamo la dottore Cialbera e poi ascolteremo la testimonianza di signor Mauro sicuramente questa domanda fa riflettere perché è vero a volte da una dipendenza può scaturire da una brutta dipendenza può scaturire la dipendenza in qualcosa di migliore l'importante che la dipendenza però la viviamo in un modo sano mi riferisco per esempio all'esperienza della fede allora in questo caso la fede può essere può essere vissuta in due modi credo mi permetto di dire questo o in un modo che ti permette di dare un senso alla tua vita e di avere la forza di proseguire la quotidianità con speranza oppure può diventare quasi un aspetto ossessivo malato la cosa importante è riuscire prima di tutto a riconoscere riconoscere quando parliamo di di dipendenza in senso positivo perché anche in un in un legame di coppia o in un in un legame tra genitore e figlio ci può essere un margine che è umano siamo persone umane comprensibile che ci sia un rapporto di dipendenza ma un conto è una dipendenza magari per cose banali è una dipendenza di tipo superficiale un conto è come spiegava bene il collega prima quando parliamo di una dipendenza soffocante che non vivi se l'altro non esiste così pure mi permetto di dire nella dimensione della fede che non mi compete neanche però mi permetto di dire che se vissuta in modo sano è un'ottima risorsa per la gestione della propria vita altrimenti anche in questo caso diventa una cosa soffocante quindi credo che tutto possa essere si possa trasformare una dipendenza malata in una risorsa ma prima di tutto bisogna riconoscere la parte malata e non ritrovarci in quelle dinamiche come dire viziose che ci portano al soffocamento in qualunque settore con qualunque tipo di persone in qualunque momento della nostra vita noi siamo grazie dottoressa albera cari amici ascoltiamo Mauro che ci porta la propria testimonianza nel frattempo preparate i vostri messaggi lo ripeto scrivete al 331 791 4523 per i vostri messaggi in diretta radiomater oppure le vostre email a diretta chiocciolaradiomater.org per le vostre telefonate in diretta 031 64 60 00 buonasera a tutti mi chiamo Mauro ho 41 anni vengo dalla provincia di Brescia in una zona che si chiama Franciacorta dove c'è molto la cultura del vino e ho passato comunque la mia vita a combattere la dipendenza da alcol da dopo prima da combattere appunto la dipendenza affettiva ho avuto un'infanzia abbastanza travagliata nel senso che comunque mio padre è morto quando avevo un anno non l'ho neanche conosciuto mia madre ha dovuto subito pensare alla parte economica anche se era molto giovane aveva 24 anni e ha dovuto appunto iniziare a lavorare e ha trascurato un po' comunque il fatto della mia crescita e ho sentito un grosso all'inizio no i primi tempi no perché questo era colmato dai nonni materni poi purtroppo quando avevo nove anni è deceduto anche mio nonno materno e quindi ho avuto un secondo lutto e di nuovo un abbandono verso i 12 anni ho iniziato a sentire comunque i primi sintomi di malessere avevo questa rabbia interna che non sapevo comunque come tirarla fuori e mi accorgevo comunque che le famiglie che avevo attorno erano diverse dalla mia cioè io avevo una nonna e una madre che lavorava e pian piano ho iniziato ad avere una dipendenza da mia madre perché comunque dipendevo da lei dal punto di vista economico dal punto di vista affettivo lei mi ha caricato un po' dal fatto che comunque poi non si è più ricostruita una vita e quindi si aspettava da me comunque un aiuto però io non potevo comunque dargli un aiuto come può darlo un compagno o un marito ma dovevo vivere comunque la mia adolescenza quindi ho iniziato comunque a rifugiarmi nell'alcol la prima volta che ho avuto questo approccio con l'alcol avevo solo 12 anni ho subito sentito comunque un attrazione da parte di questa sostanza perché l'euferia che mi dava mi distoglieva comunque dalla vita normale cioè era un modo per fuggire comunque dalla realtà che iniziava ad essere pesante ho mantenuto comunque questa relazione con l'alcol per tutta l'adolescenza nonostante abbia portato comunque compito di riuscire a finire i 5 anni di superiori però la dipendenza d'alcol diventava sempre più problematica perché facevo comunque il bravo ragazzo dal lunedì al venerdì di riuscire Questo problema diventava sempre più grande E anche io mi accorgevo che non potevo comunque affrontare la mia vita in quel modo Cioè a vent'anni mi sentivo stanco comunque internamente Come una persona comunque appassita, vuota, depressa Che non gioiva comunque delle cose in cui gli altri riuscivano a gioire Quindi mi sono fatto convincere Sono entrato nella prima comunità nella provincia di Torino Qui ho subito comunque il colpo finale Nel senso che comunque mia madre è deceduta dopo sei mesi che ero in questa comunità Perdendo comunque la parte in cui ero dipendente Sono sceso in una grandissima depressione Mi sono messo a letto per sei mesi e non sapevo proprio come uscirne Fortunatamente mi trovavo in comunità e ho avuto comunque l'aiuto giusto per risollevarmi Sono riuscito poi a trovare lavoro, a trovare una casa mia Ero indipendente, tenevo sempre comunque una relazione con questa comunità Perché gli aiutavo negli accompagnamenti, nei piccoli lavori di manutenzione E questo mi permetteva comunque di pagarmi le mie spese e di pagarmi la mia casa L'unica cosa che dentro la mia testa non avevo ancora capito che la dipendenza da alcol Per me era una cosa che mi aveva segnato per tutta la vita Nel senso che comunque io sono un alcolista E il primo bicchiere è quello che mi riapre la dipendenza E quindi nonostante portasse avanti comunque una vita tra virgolette normale Continuavo a bere anche due volte al mese Però tenevo sempre aperta una porta nella dipendenza Poi ho incontrato comunque una ragazza che mi piaceva Ho cercato di costruire un legame affettivo con lei Ma forse non ero ancora pronto perché le cose non sono andate bene A me è venuta subito una forte angoscia Nell'affrontare un nuovo rapporto affettivo Sono comunque ricaduto pesantemente Ho perso di nuovo tutto E sono riuscito a farmi ad aiutare per l'ennesima volta E sono entrato in un progetto Perché la comunità l'avevo già fatto di rinserimento Anche qua è andato tutto bene Sono riuscito di nuovo a cercare il mio lavoro A trovarmi una casa indipendente Però c'era ancora l'alcol dentro lo scheletro Che avevo chiuso nell'armadio E quindi quella volta che bevevo Pian piano è diventata una cosa comunque continua E mi ha fatto perdere di nuovo tutto Questa volta sono finito proprio sul fondo del barile Nel senso che mi sono ritrovato in mezzo a una strada Non avevo comunque più voglia di reagire L'unica cosa che mi interessava era quella di andare a bere Chiedevo elemosine in giro Chiedevo soldi a chi mi conosceva E con i pochi soldi che racimolavo bevevo Bevevo già dal mattino perché quella vita onestamente non mi piaceva E mi creava vergogna E quindi continuavo a bere per non pensare Però era un circolo vizioso da cui non si poteva uscire Dormivo in Galleria San Federico a Torino Poi un giorno ho incontrato una ragazza che mi conosceva Che avevo conosciuto in un momento positivo della mia vita E mi ha dato un là per entrare di nuovo in una situazione positiva Cioè mi ha trovato un posto in un dormitorio di Torino Mi ha regalato un cellulare così ho potuto di nuovo ricontattare Comunque le persone positive che mi potevano dare una mano Sono riuscito a ricontattare nuovamente il CERT Il CERT mi ha aiutato Però io ormai ero troppo infoniato comunque con l'alcol E quindi ho dovuto chiedere più aiuto Cioè avevo bisogno di un'ennesima comunità Perché sentivo proprio che l'alcol aveva preso il sopravvento su di me E non riuscivo a trovare una indipendenza E quindi sono entrato a Fatte Bene Fratelli Che è una clinica che mi ha aiutato moltissimo a disintossicarmi Ecco, scusate cari ascoltatori Vedete che è caduta già due volte la linea E proprio oggi ci sono dei temporali in giro Quindi ogni tanto può capitare che la linea accada Io chiedo al signor Mauro di questa bella e importante testimonianza Di concluderla E così vi anticipo già anche una domanda Alla quale poi i nostri ospiti risponderanno Però avete ascoltato la testimonianza di Mauro cari amici Avete visto che lui ci ha detto una cosa importante Sicuramente non vi sarà sfuggita È un periodo della sua vita in cui lui è arrivato a andare per la strada Provate a vedere con i vostri occhi interiori che cosa succede Lo vedete? Quante volte si vedono le persone Che passano accanto a queste persone devastate Depresse Che hanno rinunciato a vivere Vero? E passano oltre La parabola del samaritano Passano oltre Qualcuno magari butta un euro 50 centesimi E Mauro ci ha raccontato di una persona importante Forse Mauro ha detto che l'aveva già conosciuto prima Ma anche se non l'avesse conosciuto Provate a tenere dentro il cuore questo Cari amici Voi che girate Magari vi trovate nelle situazioni Dove vedete queste persone È più importante Invece che lasciare lì 50 centesimi o l'euro Fermarsi E provare a parlare Dire due parole Posso aiutarti Hai bisogno di qualcosa Vuoi che vada a comprarti un panino? Andiamo insieme a comprare da mangiare Scambiamo due parole E di lì Si può salvare una vita Mauro ci ha detto una cosa importantissima Guardate la trasmissione importante Il centro di tutta la trasmissione di oggi è importante per questo Anche le persone che parlavano del proprio problema della dipendenza Se può diventare una risorsa Guarda Prova A stare accanto A chi ha bisogno A chi non ti può dire grazie No? Perché non Ti dice solo grazie ma non ti può ricambiare Perché non hai niente da ricambiarti Ti prova Prova a fermarti lì Provaci No? Provarci Perché La maggior parte delle persone si vergogna Eh? Che vero Ci si vergogna Oh ma io poi mi vedono Gli altri mi guardano Da noi ci sono alcune persone che si occupano della missione di strada Alcuni di voi hanno conosciuto Uno è frate Felice Un altro è un sacerdote Che vanno per la strada Periodicamente E queste cose le fanno E hanno toccato Proprio sapete Con mano Quanto è prezioso Questo Proprio Proprio ciò che ci stava raccontando Mauro Che anche egli ha vissuto Direttamente Eh cari amici Ce la si può fare no? Mettersi il coraggio Invece di dire Uh vado di fretta Sono uscito dalla metropolitana Sono uscito dall'autobus Devo correre Sono la stazione Il treno che parte Ma Ce la farete Ah Vedi uno Ti fermi Invece di dargli un euro E dici Buongiorno Posso aiutarle in qualcosa? Ha fame Vuole che andiamo a comprare qualcosa Facciamo due chiacchiere? Mauro Concludiamo brevemente C'è una domanda Che è arrivata Ci scrive Buonasera Voglio raccontare in breve La mia esperienza Da convivente È andata bene Fin quando stavo bene Ma Da 15 anni Sono malato Di Sla Ci dice Giuseppe Che ci scrive E così Non avendo più Quel sostegno Quella persona Quella sicurezza Che avevo prima Vogliono Lasciarmi andare via Senza La mia compagna Nostro figlio 35 anni Io ho detto Che sono d'accordo Anche se Mi dispiace tanto E scrivo questo messaggio Perché si trova Nella mia stessa situazione E invito Non fatelo Non mandate via Un ammalato Giuseppe ci scrive questo Io mi sono ammalato Mi mandano via Non mandatemi via Mauro Brevemente la chiusura È proprio un minuto In modo tale Che i nostri ospiti Rispondano a Giuseppe E a chi ancora Vorrà scriverci Sono entrato Finalmente al Cufra Ho ripreso in mano La mia vita I primi mesi Non sono stati Molto facili Perché comunque Tolta la dipendenza Dall'alcol Avevo proprio Un'ansia di fondo Che non mi permetteva Di vivere bene Poi ho avuto Un ennesimo ricovero A Villa Augusta Da quando sono uscito Da Villa Augusta È stata trovata Comunque anche La terapia giusta L'ansia mi si è abbassato Ho iniziato a fare Comunque delle cose All'interno della comunità Delle piccole cose all'inizio Come la manutenzione Per tenermi occupato Con la mente Ma anche per ridarmi Comunque una dignità In questo Nel fare qualcosa Durante la giornata Arrivare a sera E dire Sì oggi mi sono guadagnato Qualcosa Mi sono guadagnato Qualcosa da mangiare Poi successivamente Sono passato A fare l'accompagnatore Che è una cosa Che sto facendo Anche adesso Che sarebbe quello Di accompagnare Dei miei compagni Che sono più giovani Di me nel percorso E di stargli accanto Ti permette di vedere Che comunque Non esisti solo tu Con la tua malattia Ma esistono anche Le altre persone E che puoi essere Di sostegno anche a loro E ti senti realizzato Grazie Mauro Innanzitutto ringraziamo Signor Giuseppe Per questa testimonianza Credo che sia proprio Drammatico Quando uno si sente Impotente E in qualche modo Magari per Noi non conosciamo La situazione Magari per situazioni Incompatibili di vita Magari chissà Per qualche altra ragione Una persona viene Allontanata dai propri affetti Dicevo E' drammatico Perché uno Proprio nel momento In cui E' malato Ovviamente più debole Ovviamente più fragile Più vulnerabile E si sente più solo Sicuramente Lei ha dato Prova di Di coraggio No? Ancora una volta Riprendiamo Quello che Abbiamo detto Fin dall'inizio Della trasmissione Che ha lasciato Libere Pur nella sofferenza Pur nella malattia Le persone A cui Era più legato Immagino Io credo che Sicuramente Dove Andrà Sicuramente Sarà Accudito E io credo che Queste persone Che l'hanno allontanata Magari per motivi Assolutamente Reali Non Non l'abbandoneranno Di certo O comunque Lei troverà La forza Dentro di sé O nelle persone Che avrà Accanto Che magari Conoscerà Di proseguire La sua vita Con una maggior Serenità E con speranza Grazie ancora Abbiamo ancora Due minuti Se c'è qualcuno Che ancora Sta pensando Sta mandando Il suo messaggio 331 791 4523 Oppure Diretta Chiocciola Radiomater Punto Org Le vostre Telefonate 031 64 60 00 Sì È una situazione Mi ricollego a quello che ha detto la mia collega Una situazione sicuramente Purtroppo straordinaria Nel senso fuori dall'ordinario Una malattia in questo genere Di questa gravità Sicuramente bisogna Trovarsi nella situazione Per capire le motivazioni Reali appunto Che conducono a queste decisioni Riprendo anch'io Dicendo che Non ci Non verrà lasciato da solo Sicuramente E troverà la forza E l'appoggio Di tutte le persone Che intendono aiutarla Grazie Siamo in chiusura Cari amici Grazie per essere stati con noi L'appuntamento col Cufrade Per giovedì prossimo E il 7 luglio Sempre Alle 17.35 Grazie per chi ha telefonato Per chi Ha migliorato La trasmissione Con i vostri messaggi Con le vostre email Vi invito A rimanere All'ascolto Delle trasmissioni Di Radio Mater E col canto finale Auguriamo a tutti Una buona serata Io sogno Che l'amore del Signore Venga rivelato A tutti gli uomini Degli studi di Radio Mater Abbiamo trasmesso Testimoni del cielo Rubrica sul disagio Indiretta dalla Cufrad Di Somma Riva del Bosco In provincia di Cuneo Come già annunciato Il prossimo appuntamento Sarà giovedì 7 luglio Sempre alle ore 17.35 Amare 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 Tutti i uomini Amare 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 Tutti i uomini Amare 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 Sono i più poveri Amare Chi non conosci Amarli Come Dio Amar di Dio Come Dio Amar di Dio Amare Radio Mater la radio che porta la chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia Toscana Oggi il settimanale alla radio un cordiale saluto da Andrea Fagioli e da Riccardo Bigi ben trovati come sempre all'appuntamento con Toscana Oggi vediamo subito i temi in primo piano questa settimana a partire dalla legge cosiddetta sul dopo di noi la legge che riguarda i disabili i disabili gravi, le norme a tutela appunto di coloro che rimangono senza le cure dei familiari dopo di noi, legge alla prova questo è il titolo in prima pagina se ne parla con Alberto Corsinovi delle misericordie della Toscana che erano particolarmente interessati a questa legge in primo piano però questa settimana anche quello che è accaduto in Gran Bretagna con l'uscita dei britannici dall'Europa se ne parla in un editoriale a firma di Romanello Cantini ma anche poi nelle pagine interne con un primo piano ma andiamo avanti a scorrere il nostro giornale oltre la pagina delle lettere il primo piano questa settimana dedicato alla Siria Sì, attraverso una intervista un'intervista ricca davvero di tanti spunti di tanti richiami interessanti è il Monsignor Indo che è un'intervista ricca e un'intervista ricca Grazie.